Icardi dimentica Vandanara con una di follie, ecco cosa è successo. Dopo aver chiuso per qualche giorno il suo account Instagram Mauro Icardi è tornato attivo sui social network. L'attaccante del Galatasaray è singola, il matrimonio con Vandanara è definitivamente finito. Tra le storie il giocatore ha condiviso uno scatto in cui sorride, abbracciato ad un uomo e ad una donna. Gli amici Marcello Calello e Luli di Pace, con i quali Maurito ha trascorso una serata al Tequila. Nota discoteca di Buenos Aires. Qui non sono mancati balli, brindisi e rissate. Icardi e Vandanara si sono lasciati Icardi ha così cercato di trascorrere una serata spensierata. Mettendo da parte i suoi problemi d'amore. Stando a quanto affermato dalla stessa Vandanara. Infatti, il calciatore non era intenzionato a separarsi e ha fatto il possibile per tenere in piedi il rapporto senza però ottenere risultati concreti. Tra qualche giorno l'ex dell'Inter lascerà l'Argentina per rientrare a Istanbul, le figlie Francesca e Isabella resteranno momentaneamente a Buenos Aires con la madre. Virgola. La parola è inord gerade insieme. Grazie La parola Grazie a tutti.